Friends, perché la musica, li ha fatti incontrare. Dopo Mariella Nava, Salvatore Cauteruccio e Sassà Calabrese portano a scalea Jeff Wesley. Il pianista e produttore inglese vanta collaborazioni del calibro di BG, Sbaglioni, Renato Zero e Laura Pausini e torna in Calabria esaltando i due compagni di viaggio. È un gran piacere tornare qui giù, ma soprattutto per questi amici, che è il titolo della serata, che è nata questa amicizia tra loro, tra noi tre, un paio di anni fa, sfruttato nel concerto a Castrovilli, luglio scorso e poi a Cettrara. Abbiamo avuto il desiderio di fare altre cose, quindi è nato questo progetto. Ma musicalmente sono bravissimi, quindi è un gran piacere lavorare con tutti e due. Sono bravissimi. Salvatore, come fisiamonicista, è un mostro. Veramente è un gran piacere con lui. Sassà sia su contrabbasso, ma sia su chitarra acustica, che purtroppo in questa presentazione non suona perché abbiamo bisogno del contrabbasso. Ma lui è pure molto bravo. Un trio che stasera promette di incantare il pubblico che vorrà immergersi nella magia della musica tra le mura del Palazzo dei Principi. Sicuramente questa è un'esperienza davvero positiva per un musicista, soprattutto come me, che sono in una fase di investimento della mia carriera artistica. E collaborare con musicisti del calibro come Jeff Wesley può essere solo input positivo per crescere, per migliorarsi e per andare avanti. Poi Scalea è una cittadina che io credo che ha bisogno di queste iniziative, ha bisogno di queste iniziative e quindi per me è un onore nel mio piccolo cercare di dare una mano appunto a Scalea per portare artisti così. L'evento voluto dal presidente della Prologo ha trovato l'appoggio e la partecipazione della cittadinanza, soprattutto dei commercianti, che hanno contribuito a portare uno spettacolo di qualità a costo zero per l'ente. Sì, è con immenso piacere e soddisfazione che ho subito accolto l'invito di Salvatore Cauteruccio e veramente già l'anno scorso, quando ho assistito a un concerto a Cetraro con il maestro Wesley, siamo rimasti incantati veramente quelli che eravamo lì e il mio desiderio era quello di portarlo qui a Scalea. Questo desiderio è stato esaudito con l'aiuto di tanti amici che hanno subito aderito all'iniziativa e quindi mi hanno aiutato a far concretizzare questa serata. Io spero che questa sera saranno in molti ad avere il privilegio di sentire questa musica, privilegio che tanti altri paesi avrebbero voluto, però le date erano quelle, quindi noi siamo entrati per il rotto della cuffia, come si dice. Un motivo in più per non perdere l'appuntamento che prevede un tuffo in un vasto repertorio. È una miscela tra la musica sudamericana che loro suonano spesso, ma ho pure inserito qualche brano mio, perché nonostante che la maggior parte del mio lavoro è come arrangiatore, orchestratore, quindi sono piuttosto a casa di fianco al pianoforte con grande carta musica e invento il pianoforte e escono fuori questi pezzettini che vorrei inflittere su di voi stasera. Quindi ci sarebbero pezzi argentini di Piazzolla, pure Gardel, mischiato con pezzi miei.